E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio della Pixelmon Oggi andremo alla ricerca di due Pokémon, ma vi dirò tutto durante il corso di questo episodio Detto questo, vi do come sempre lasciare un pollice in su, cerchiamo di superare il 3847 like Iscrivetevi al canale se ancora vi siete iscritti attivando la campanellina Per non perdervi nessun altro episodio della Pixelmon E detto questo ragazzi, ne possiamo iniziare subito Ciao a tutti allenatori Ok ragazzi, eccoci qui Allora per prima cosa vi chiedo scusa se nello scorso episodio la webcam era messa nella parte sbagliata Ma avevo appena finito di registrare la vanilla e un glameo mi vuole sfidare Mosse, nitrocarica, non mi puoi sfidare così, come ti permetti Calmanella, vabbè, fiammo E quindi mi sono dimenticato di spostare la webcam Comunque oggi è nel punto esatto e andremo a fare diverse cose Allora la prima cosa che mi hai detto da fare e la facciamo subito è quella di trasformare il nostro Tornadus No raga, no raga E' venuto dalla savana fino a qui per sfidarmi questo L'ho detto che era pazzo questo Pazzo Ma come ti permetti? Facciamo livellare anche un po' il nostro Green Ninja, dai Un bellissimo Idropulsar e bye bye Uh, i cocchi neri è proprio quello che ci servono oggi Perché oggi ragazzi andremo a craftare anche nuove Poké Ball Mi sono informato per bene, ho letto per bene la wiki E oggi andremo a fare la Velox Ball Che qui si chiama, se non sbaglio, Quick Ball E andremo a fare anche la Dive Ball Che è una Poké Ball che ha il 3.5 per E catturare un Pokémon Se sta dentro l'acqua Calcolate che un Ultra Ball ha il 2 per Quindi abbiamo molto più probabilità di catturare un Pokémon che sta dentro l'acqua con una Dive Ball Che è con un Ultra Ball Mentre la Fast Ball ha un 4 per se tirata al primo turno Comunque, cosa mi hai detto di fare? Di trasformare il nostro Tornadus nella seconda forma Quindi facciamo così, tasto destro Oddio Raga Se si può cavalcare Nooo Perché non si può cavalcare? Ma perché? Vabbè Comunque dentro il nostro box ragazzi Abbiamo anche Grodon Grodon che io vorrei tantissimo spostare Nel box numero 2 Perché vorrei fare che il box numero 2 È quello dei leggendari Anzi Ho un'idea migliore Visto io comunque voglio catturare pian piano tutti i Pokémon Perché Proprio mi piace come collezione la cosa Mi metto nel box 50 leggendari Così sono proprio gli ultimi diciamo Perfetto raga Ho catturato Fibas che è pure femmina Quindi top per Milotic Dovremmo livellarlo ma non lo faremo oggi Altra cosa da fare Andare in Tornadus generale E di bloccare il livello In modo che potremmo utilizzarlo noi Casomai nelle palestre O nelle varie sfide Pokémon Onda Roma L'ho cercato pure Ed era come mi ricordavo Ovvero che potenzia le mosse di tipo acqua Quindi eccolo qui Agri Ninja E pertanto raga Il mirino bolo Diamo a questo qui Tanto alla fine Allora ragazzi Già io ho messo qui Le Velox Ball Da craftare Prendiamo la base E sbam Abbiamo le Velox Ball Ma andremo a fare anche altre Poké Ball Come detto In questo modo ragazzi Facciamo altre Velox Ball Direi che 15 Possono anche bastare Anche perché In questo modo Facciamo invece La Sub Ball Che non sarebbe altro Che la Dive Ball Detto in inglese E se non ho sbaglio Qua dentro Abbiamo altre set Ma io direi Questi questi ragazzi Che 15 bastano Sì a voglia Facciamone altre Velox Dai facciamone Velox Quindi tac Sbam Raga 39 Prendiamo ora questo E ragazzi Inizia la pesca Oddio un Roserade Dimmi che è quello Che mi ricordo io Ragazzi ho detto Il nome giusto Roseria Roseria E Roseria Roseria è l'ultima evoluzione Se non sbaglio Mi trocarica Comunque poi ragazzi Verso il fine episto Di frame anche lo spacchettamento Adesso vediamo un attimo Cosa riusciamo a pescare Qua Perché mi è stato detto Che dobbiamo continuare a pescare Qui E se abbiamo ragazzi Fortuna Possiamo trovare Del mais E non ha abboccato Nulla Penso che questa parte Sarà piena di tagli Fin quando Non beccheremo Un pokemon decente Dai 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 Eccolo No Questo pokemon Non mi piace Dai Vediamo un pochettino Ok catturato A posto Dai ci sta E mettiamo a fare Adesso le altre Velox ball Prendiamo adesso Queste qui Prendiamo anche La parte di sotto E sbam E andiamo subito A fare 15 Raga Bastano e avanzano Veramente Opla Perfetto Le cornacchie Ci sono anche Nella pixelmon Nello scorso episodio Gli elefanti Ora le cornacchie Comunque ragazzi Ho cambiato L'ordine Dei pokemon In questo modo Non vado a sfidare Pokemon d'acqua Con Teplution Ti prego Non mi pescare Quelle magiche Arpa da sotto Dai Forza Forza Dai 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 Uh Un fibas No Dai Vabbè Moss E tere lama Comunque non ho dato che anche qui c'è la cosa E dei due punti esclamativi In base alla rarità del pokemon E' molto interessante Quindi mi sa che dobbiamo Aspettare Due Cose Per farlo Non lo so sinceramente Un Vaporeon Attenzione ragazzi Un Vaporeon Se non va con la ultra Ma lo vorrei provare un attimo con la dive ball O la sub ball Vediamo Si è liberato Prima di essere ragazzi con la cosa Con appunto la sub ball Dovrebbe essere molto più efficace Per Vaporeon Vediamo Si è liberato Niente E' morto Per sbaglio Ops Mi giù acqua Non mi interessa per ora Ho cambiato leggermente posizione Vediamo se cambia qualcosa Ma non credo Dai Del mais Dai Dai Non ha boccato nulla Oh Raga Eccolo Raga livello 43 Oh mio dio Prima cosa da provare subito ragazzi Zaino Pokeball Veloxball A primo turno Instant Raga L'abbiamo trovato Oh Così Catturato instant Non ci credo raga Non ci Ho fatto pure l'advancement Raga mi piace un castino come pokemon Solo solo per la forma Che ha E' una cacchio di ancora E vi dico Vi assicuro che già lui Sarà all'interno Nella mia futura palestra Allora prima cosa ragazzi Craftiamo Le altre Veloxball Che sono veramente tantissime raga Opla Eccolo Qui Il livello 43 Eppure raga E Leviamo un attimo Lo mettiamo al posto di Kofagaga schifo Uuu Raga U E' un ancora E' un fucking timone U Dio No 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 Aspetta riprendiamo Un posto leggermente più ampio Qua Qua va benissimo U Raga è pure gigantesco Che bello Raga che bello Lo vorrei provare instant In una lotta ragazzi Quanto meno per capire Che moveset ha Ecco Principalmente Si Per quello Raga fatemi sapere qua sotto Nei commenti Cosa ne pensa di questo pokemon E' fatto veramente bene Mi piace un casino Uno dei pochi pokemon Delle nuove generazioni Che mi piace Mosse Oddio Mega assorbimento Sgomento Giga assorbimento E anchor shock Oh questo lo voglio provare subito Tipo acciaio Bello 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 Mi piace ragazzi Mi piace Un casino Ma Del mais Non è Nel maschio Nel maschio Nel femmina Davvero Spettro erba Raga Spettro erba Bellissimo E naturalmente A Steel worker Dovebbe essere tipo In italiano Tempra acciaio E' La sua Abilità Esclusiva Soltanto 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 questo pokemon Ce l'ha E aumenta Le mosse Tipo acciaio C'è un po' Potenza Di due mosse Tipo acciaio Infatti c'è Anchor shot E raga Dobbiamo farlo livellare Aspettare che Qui altre nuove mosse Anche perchè abbiamo Mega assorbimento E abbiamo anche Giga assorbimento Quindi mega assorbimento Non ha tanto senso Averlo Ecco Raga Andiamo subito Al centro pokemon Istante Lo mettiamo qui A curare Perchè non abbiamo finito Dove andare adesso Nella palude E dobbiamo andare A cercare Green ninja Con l'abilità Particolare Ok ragazzi Visto che è notte Direi di andarci subito Nella palude Ci andiamo di notte Perfetto ragazzi Eccoci qui Leggermente tenebrosa Sapete perchè di notte Perchè di notte Potrebbe spawnare Anche dark cry Raga Si spawna dark cry Oh cacchio Che spavento C'è Veramente Non dico tanta roba Ma a parte che compare I messaggi in chat Ma noi intanto Rimaniamo qui E vediamo che succede Allora raga Ci tocca di nuovo Pescare Dobbiamo andare In un punto Dove almeno La profondità È di 4 blocchi Quindi tipo Sopra queste Lillipad Direi che è perfetto Ci mettiamo qua sopra E sbam Raga Se becchiamo Green ninja Prima botta Io urlo tantissimo Naturalmente deve essere Green ninja Con battle bond Con battle Oh 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 Cattura Aspettate È la prima evoluzione Di green ninja Fra un livello Si evolve No raga Dobbiamo catturarlo È spavento un girados Rosso là sotto Ti vediamo Dai Dai Catturato Raga Attenzione Sento pure di livello Il nostro Bellissimo Bravery Generale Acqua aiuto Schifoso Lezzo Raga Era troppo bello Per essere vero Ma veramente Era troppo bello Per essere vero Vai Tiriamo di nuovo Il suo veramo E vediamo se riusciamo A catturare Perché già ho appena visto Raga No Ho tirato prima Perché già ragazzi Appena ho visto i due punti Scrammati Ho detto Eccolo Eccolo Vediamo Dai 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 Ma che cazzo è Ogni volta Uh 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 No Che cosa sei Barboacce Minchia quel girados Se lo voglio sconfiggere Raga Uh Green ninja Raga Green ninja Raga Green ninja Zaino Pokéball Veloxball Per l'amor di Dio Per favore Dimmi che hai Battlebond Aia Seppure è liberato Raga Allora Mi facciamo furia Ok Va più che bene Basta Si Si A battlebond All'abilità battlebond E' comparso i messaggi in chat Raga Zaino Pokéball Subito Subball Raga 3.5 Dovevo farci Dai 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 Si Si Ragazzi Quando io vi ho detto Che avrei sostituito Green ninja Nello scorso episodio E' perché io Voglio sostituirlo Con green ninja Con l'abilità battlebond Non con un altro Pokémon Raga Il nostro Primo green ninja Purtroppo Andrà in pensione Perché abbiamo Il nuovo green ninja Con Generale Battlebond Raga L'ho messo in squadra Ora gli diamo Anche Onda Roma E vediamo subito E vediamo subito E cosa Proviamo a combattere Contro qualcuno Soprattutto Ragazzi Esplode un Dianzette Proprio dove sono io Io non so come sia fatto Un Dianzette Raga Per me può essere Qualsiasi Pokémon Quindi perché non Perché non li conosco Quelli nuovi Raga Oddio Che Pokémon è questo Che bello Mentre E tu chi sei Ma Squareign Bu raga Zaino Pokéball Visto che abbiamo un sacco di Ultra Ball Velox Eccetera Proviamo a catturarli Tanto Edz Catturato Ragazzi Sono tutti i Pokémon Strani e particolari Che vedo Ci vado contro Per vedere se È a livello 50 70 Perché vedete Se è un Dianzette O meno Perché non so minimamente Come sia fatto un Dianzette Potrei cercarlo Nella wiki Ma non ciò sbatta Uh Allenatori Un trader Lui che è a livello 44 Raga Vai Ha un Anorith Attenzione Mosse I facciamo un Water Shuriken Come sempre Eccolo Eccolo Raga Si è trasformato Uh Qualcosa è scassato Dall'aria Eccolo Raga Raga Guardate Che spettacolo Vai Mosse Water Shuriken One shot Raga One shot Perché fa Almeno Tre volte E soprattutto Aumenta le statistiche Dell'attacco Infatti Water Shuriken Non dobbiamo mai Levarlo Guarda quanto Gli ha fatto Raga Facciamo adesso Volendo anche Un attacco Rapido Ed è andato Ah no Ha cambiato Pokémon Uxie No Raga Ma Volete che Devo cattro Tutti Leggendari Io Non posso È andato Di altro Water Shuriken Ragazzi Guardate come Cala la vita Eh raga Il bioma River È questo qua Dovrebbe Cioè Possiamo trovare adesso Un Diancer O un Uxie Dovrei fare anche Lo spacchettamento Però ragazzi Io eh Ve l'ho promesso E lo facciamo anche Ora Subito Ma è quello È quello È lui Eccolo qui Uxie Raga Vabbè Vai con l'Andarus Raga Ma che è Nuovo Ma non posso fare Che è un episodio Cattura leggendari Zaino Pokeball Veloxball Subito Per vedere Se lo catturiamo Instant Ma Sei liberato Eh ti pareva Sono entrati In battaglia Perché ho pensato Ma se quitto E rientro Posso sempre utilizzare La Veloxball Sei liberato Ma raga Io devi giocarcelo Un pochettino Dai Facciamogli Oh dio Basta Va più che bene Va più che bene Zaino Siamo pure nell'acqua Quindi Subball Dai Sei liberato Manca il tempo Raga Sta per rifare Notte Dai Please Non ti posso Ammazzare Sei liberato Ma io ho fatto Come ho stato Memento Sei suicidato No raga Io piango Raga Io piango tantissimo Ma serio Ci sono rimasto malissimo Raga Lo giuro Eh vabbè Raga Oh Capita Che vi devo dire Che pokemon Della minchia Veramente Decoffing Vabbè Raga Io a questo punto Vi dico che ci prendiamo Un pacchetto Anzi Non uno Ne prendiamo Uno Due Tre Quattro Cinque E sei Abbiamo ben Sei pacchetti Dentro il nostro zainetto Abbiamo Dei vari decoldere Che ho fatto Uno è quasi pieno L'altro è completamente Vuoto Uno invece è completamente pieno Per evitare lo spacchettamento Fatto con fed Eccoci qua raga Primo pacchetto Si inizia 3 di 1 Sbam Apriamo Yes Abra Ottimo Star Carbock Ok Senza skin Squirto Interessante Ok Coffing Ok E vabbè Schifo raga Probabilmente Schifo Mettiamole tutte Qua dentro Vai di altro pacchetto No Digret Bulbasaur Ghastly Ok Onyx Professor Vabbè Magnemite Raga Abbiamo altri Quattro pacchetti Kabuto Omnite Psyduck Lapras Uh Reciclo E energetico Eletro Raga Per me Non troveremo Nel mai Un pokemon Decente O carino Interessante Veramente Zero Charmaine e Charmellion Vabbè Ci sta Però Raga Io voglio cercare qualcosa Anche tipo una carta Leggermente rare Tipo qualche olografico Qualcosa Che ne so Ora non so se nelle carte C'è qualcosa di tanto raro Sinceramente Non lo so Comunque Continuiamo Ok Va bene Eeeh Nya Nya Iiii Veramente questo qui Sto pacchetto raga Ai 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 Brutto 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 Eh Raga è rimasto l'ultimo pacchetto Testo destro Yes Allora Superpozione Onyx Charmellion Machok Nidorino Ok Pikachu Magnetor Voltorb E Squirtle Niente ragazzi Mi dispiace Sto da uno spacchettamento Veramente Pessimo Comunque raga Da quando mi sono detto Che Darkrai Spawna Della palude Io vorrei tantissimo Catturarlo Ma Dovevo avere fortuna Ma veramente fortuna Soprattutto Darkrai Sarà bellissimo Nella Pixelmon Ma che fanno un giro veloce Se riusciamo A trovare Quel poco Leggendario Ma mi sa proprio di no E sinceramente ragazzi Dove che abbiamo trovato Del mais E il green ninja In Con battle bond Eeeh Direi che Questo episodio Può anche Finire qui Quindi ragazzi Questo è episodio La Pixelmon Finisce qui Spero vi sia piaciuto Questo video Con un pollice in su Un commento qua sotto Vi ricordo di passare in descrizione Per chiedere tutti i miei social Come Instagram E Telegram Mi raccomando Scrivetevi su entrambi E se ancora non vi siete iscritti al canale Vi invito ad iscrivervi Volendo per iscrivervi al canale Basta che cliccare nella foto Che sta qui c'è nello schermo E se ce l'avete fatto Vole cliccare assisto a destra Per vedere un altro mio video Ragazzi Detto questo Io vi saluto Noi ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao a tutti